Se avessimo tanti voti quanti partecipanti alla festa dell'Unità saremmo il primo partito della campagna. E se avessimo tanti voti quanti maleducati sono passati anche per questa festa saremmo il primo partito d'Europa, sicuramente. Ma sono qui soprattutto perché mantengo un rapporto con i militanti, con quelli che vivono la vita difficile nelle sezioni, con la rete di amministratori che sono quelli che sono alle prese con i problemi della gente, che hanno il fiato sul collo dei cittadini e che, come me, tempo da perdere con gli imbecilli non ne hanno. Va bene? Quindi sono qui per questo.